Ciao ragazzi sono Carolina e benvenuti sul mio canale che parla interamente di Formula 1, quindi vi do il benvenuto se siete nuovi, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti e se non vi conoscete già seguitemi su Instagram che è una pagina interamente dedicata quindi alla Formula 1 con tutti gli update, le news, le dirette per commentare insieme a questa stagione 2020 che è iniziata già da qualche settimana. Oggi andremo a commentare la gara che si è appena conclusa al Gran Premio di Spagna, questo weekend, quest'ultima domenica, una gara un po' particolare che va ancora di più a definire delle linee che si sono già definite purtroppo per fortuna per altri team in questi primi Gran Premio, quindi andiamo ad assegnare una pagina piloti ad alcuni team e ad alcuni piloti, vi ricordo che questi voti sono voti soggettivi, quindi voi potete avere voti diversi dai miei, è molto importante andare a capire poi le prestazioni e appunto tutto quello che stanno seminati. di piloti in queste prime gare, quindi direi bando alle ciance, passiamo con la pagina piloti. Il Gran Premio di Spagna che si è concluso con un podium un po' solito, ok, nulla di stravagante, in prima posizione abbiamo Lewis Hamilton, il re ormai indiscusso della Formula 1 dell'era ibrida, in seconda posizione un fantastico Max Verstappen che va a insidiare ovviamente con la Mercedes quasi intoccabile e in terza posizione Valtteri Bottas che fatica, sta galopando in maniera molto negativa e dopo andremo a vedere il perché. Io direi ragazzi di partire con la casa italiana, siamo nella scuderia italiana e sto parlando appunto della Ferrari, parto da loro perché c'è tanto da dire, tanto da dire abbiamo già detto nei video precedenti e sui miei video su Instagram, quindi date un'occhiata per non perdervi tutti gli aggiornamenti, però andiamo a rimarcare una situazione che è palesa a tutti, ovvero un progetto di macchina fallimentare. Io direi di andare a guardare, per questa gara abbiamo due piloti che sono Charles Leclerc da una parte e Sebastian Vettel dall'altra, le abbiamo trovati un po' Seb in difficoltà con una feeling di uno monoposto che non arriva, feeling mancante anche perché magari è una macchina fatta più per le misure di Charles, sappiamo che Charles sarà il futuro pilota di Scuderia Ferrari mentre Seb conclude il suo anno nel 2020, dopo ci sarà Carlos Sainz al suo posto, quindi anche in un futuro ci può stare. L'importante è che il pilota deve andare oltre i limiti dalla monoposto, Leclerc ce la fa, Sebastian leggermente meno, anzi molto meno, possiamo dire così. Per questa gara io ho dato un 7 e mezzo alle Clerc non ovviamente per la prestazione della sua monoposto ma per lui come pilota, per quello che ha fatto fino a come ha potuto farlo ovviamente, perché ha fatto dei buoni tentativi di sorpasso con Lando Norris, bravo Lando a tenere chiusa la porta, la porticina allo spirale di luce di Charles per fare una ribonta. male però, è un 7 e mezzo quindi più per Charles che per altro, male perché poi si gira, si spegne la macchina, si sdraccia le cinture, questa macchina si riaccende, è un problema elettrico, insomma ne hanno provate di tutti i colori, vanno ai box e poi si ritira perché non c'è più nulla da fare. Quindi è già difficile, l'unico pilota su cui possono puntare tanto perché ha feeling con la monoposto è Charles e succedono queste cose, quindi malissimo per la parte di Leclerc non per ovviamente problemi suoi. Dall'altra parte abbiamo Sebastian Vettel che prende per questa volta un 8 e mezzo, 8 e mezzo perché comunque buonissima gestione della gomma, è l'unico che parte con una gomma diversa, per lui infatti sceglie di partire con questa gomma gialla, per lui c'è stata una gara, un solo pit stop, gli dicono di spingere tantissimo con la soft perché poi lui era convinto di cambiarla, poi gli dicono che in realtà deve mantenerla fino alla fine, quindi davvero 4-5 giri di spinta al massimo, forse troppo, l'ha detto anche lui si è un po' arrabbiato nei team radio con il suo team perché ha detto se me lo dicevate prima non spingevo così tanto, magari gli ultimi giri potevo recuperare qualcosina perché è andato un po' in deficit poi negli ultimi giri con uno stint portato all'estremo, però hanno inventato qualcosa di diverso, buona strategia, arriva a settimo e per lui a spazio sarà in teoria l'ufficializzazione del suo... arrivano a St. Martin per il 2021, quindi Seb si salva per una stagione per lui in negativo, deludente, mettete tutti gli aggettivi che volete negativi perché si sposano, ma più che altro tra loro due direi di andare a fare un salto nella scuderia Ferrari, Ferrari che si prende un 5 completo, se non 4, se non 3, sono stata buona, ho dato 5 perché quinta nel campionato costruttori, non è possibile che Ferrari sia messa così, anzi forse anche in un piazzamento positivo perché in realtà le sue prestazioni sono deludenti, gli unici podi che hanno fatto sono stati o di fortuna o di bravura di Leclerc, sicuramente non per la monoposto che è inguidabile e non va, né lei né tutti i motorizzati Ferrari, scusatemi, quindi Alfa Romeo e AS, una Ferrari che non funziona, non va, ma soprattutto direi che bisogna andare ad intervenire a livello proprio nel reparto corso, nel reparto di Formula 1 a Maranello, già a Monte, per cercare di davvero combinare qualcosa, di buttare qualcosa di diverso, per salvare il salvabile di questa stagione che ormai ha preso una certa via, ma soprattutto in ottica futuro nel 2022 e nel 2021, è molto importante questo per tutti i tifosi, per il nome della Ferrari che ha nel mondo e per la sua immagine, io più che altro sono un po' preoccupata per i prossimi next incontri che sono a Spa e poi abbiamo Monza, due circuiti molto veloci dove il motore è importante, il motore la Ferrari non ce l'ha, quindi io sono davvero un po' tipo con le mani nei capelli nel dire, oh mio Dio, cosa succederà nelle prossime volte, perché ne vedremo delle belle, male, male, fatemi sapere voi, secondo voi, come andrà e se si riprenderà la SEB durante questa stagione, se Charles con questi intoppi della macchina può cadere un po' in deficit e in sottopressione o comunque può, gli può cadere un po' quella voglia di, e fatemi sapere come vedete la Ferrari voi nei prossimi circuiti imminenti, perché sarà davvero grigia, molto grigia e non sto parlando del colore delle Mercedes. Passiamo invece a chi la storia la fa e la fa in super positivo, in maniera efficiente, sto parlando appunto di Mercedes, in particolar modo di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, io direi di partire con Lewis Hamilton, Lewis Hamilton che si porta a casa a un 9,5, 9,5 perché ragazzi è un fenomeno, ok, ha una macchina che praticamente quasi si guida da sola, ma Hamilton ricordiamo che ha vinto anche in alcuni anni in cui la Mercedes non era la macchina da battere, ma era la macchina da batteri era la Ferrari, però Seb ha fatto delle cose che poi sono andate, come sono andate, quindi non si costruisce il futuro con il passato, però detto questo siamo nel presente, in chiusura del Gran Premio di Spagna, 9,5 se lo porta a casa anche perché lui nel weekend riesce a sempre essere perfetto, sia in qualifica che in gara, non sbaglia mai o comunque sbaglia quando, tra virgolette può sbagliare, nei momenti essenziali della sua carriera o comunque della pista, del tracciato, lui non sbaglia mai, è un martello pneumatico, batte il chiodo in continuazione, meno a tre vittorie, dalle vittorie di Michael Schumacher è illizza lì per andarsi a conquistare quel settimo titolo, sempre pari a Michael Schumacher, nulla da dire per Hamilton che sta scrivendo la storia della Formula 1. Io direi di passare invece da Valtteri Bottas, ecco qui la situazione e vi voglio far notare come nelle scuderie c'è sempre un top e quasi un flop, l'abbiamo visto un po' in Ferrari e adesso lo vediamo qua in Mercedes, perché in realtà Bottas ha tutte le carte in tavola per poter, o comunque abbastanza caratteristiche per poter davvero andare a intaccare Lewis Hamilton, ma ha un grosso problema, che quando deve fare la differenza, la differenza non la fa, questa volta si porta a casa un 5, perché? Perché arriva terzo, con una Mercedes non puoi arrivare terzo, non puoi farti infilonare così da Max Verstappen, che sappiamo che è un fenomeno, ma tu hai la macchina vincente, quindi è sicuramente un terzo podio deludente ed è un flop totale, anche perché è importante per lui la partenza, l'ha già sbagliata qualche gran premio fa, quando si è fatto infilonare a Lewis Hamilton, questa volta la partenza è fondamentale in un circuito come la Spagna, nel quale non è così scontato, è facile appunto sorpassare, quindi le qualifiche e la partenza pulita e giusta sono essenziali per mantenere le posizioni, lui si è fatto davvero sfilonare da diversi, Stroll, Max Verstappen, e quindi partenza male, pattina e perde delle posizioni, le posizioni che poi ha fatto fatica a recuperare, come dicevo arriva terzo, male per lui perché quando deve essere concreto non lo è, ha avuto delle buone opportunità, lui fa sempre la poll, però riesce a concretizzare durante la domenica, quindi purtroppo tanti lo davano come scudiero di Lewis Hamilton, purtroppo più andiamo avanti e se continua così la sua linea, la sua caratteristica rimane quella, perché non riesce ad andare oltre, quando bisogna stringere il pugno e far vedere davvero quanto sei tosto, lui non sempre, anzi quasi mai lo fa vedere, quindi male per Bottas che porta a casa un 5. Passiamo a colui che è un vero e proprio talento, lo sapevamo già, ma in questa stagione anche nella scorsa è maturato davvero tanto, sto parlando dell'olandese Mad Max, ovvero Max Verstappen, che è arrivato secondo, e io vi ricordo, non so se vi ricordate, Rosberg aveva detto inizio stagione, ancora quando eravamo in pieno Covid, quindi non si sapeva se si ripartiva e come si ripartiva, in che modalità aveva detto, occhio perché in questa stagione anomala tutto può succedere, purtroppo non sta succedendo proprio di tanto per quanto riguarda il dominio Mercedes, che è confermato, pienamente confermato come le scorse stagioni, ma aveva detto, occhio a Max Verstappen, perché è proprio lui, scusatemi, che può andare a intaccare il dominio di Lewis Hamilton e il suo regno, diciamo qui in Formula 1, e non aveva tutti i torti, perché in realtà Verstappen è l'unico che attualmente può andare davvero a infastidire Lewis Hamilton, ovviamente non in un'ottica troppo campionato, perché anche se non distano troppi, troppissimi punti tra di loro, però c'è una differenza di monoposto che è assurda, Hamilton guida un'astronave, Max Verstappen guida una macchina che è fatta su misura per lui, infatti vediamo la difficoltà in Albon e tra poco andremo a vedere la sua situazione, però Max Verstappen è davvero un fenomeno, e va oltre Bottas, che tra l'altro è il campionato di Lewis Hamilton, quindi per lui porta a casa un 9, 9, 9,5, insomma comunque super positivo, e per quanto riguarda invece Spagna sapete che il famoso bottoncino delle qualifiche del party mode che si è parlato tanto in queste settimane, in questi ultimi giorni, possiamo dire così, della super extra potenza che si dà dalla mappatura al motore, super spinto per la qualifica, verrà completamente bloccato, ed è una mossa fatta un po' dalla Fiat contro, tra virgolette, la potenza di Mercedes, e in merito Max Verstappen ha detto che per loro non cambierà così tanto, perché fondamentalmente Mercedes è ad avere una potenza difficile da andare ad intaccare, loro sta facendo di tutto, Max Verstappen sta facendo di tutto, vedremo nelle prossime gare, perché Rosberg non aveva tutti i torti, cioè in realtà tutto può succedere, quindi andiamo a vedere un po' quello che succederà. Passando da Max Verstappen invece al flop, che è Alexander Albon, Albon che arriva ottavo contro un Max Verstappen che arriva a secondo, l'abbiamo già parlato nei video scorsi, anche su Instagram, della difficoltà che Albon sta avendo in questo periodo, la stessa difficoltà forse che aveva Pierre Gasly l'anno scorso, tante voci da paddock, non è stato ancora rinnovato, si vedrà, sta rifatto che in questa gara ha avuto diverse difficoltà, con le gomme, con l'aderenza, i primi giri, i 6-7 giri spingeva poi, perdeva completamente il feeling, l'ha detto lui ai media, difficile per lui il terzo settore, quindi porta a casa un 5, perché purtroppo sappiamo che il paragone con Max è difficile da sostenere, però un gap così importante è difficile invece da giustificare, quindi per lui un 5. Postiamoci invece in casa Papa Stroll Casa Rosa, sto appunto parlando della Racing Point, Racing Point che in generale tra Stroll e Perez, Perez che torna dopo queste due settimane di pausa per il Covid, porta a casa tutti insieme appassionatamente da un 7 all'8, da un 7 all'8 perché arrivano quinto e sesto, Perez prende la penalità di 5 secondi, Stroll però parte molto bene in partenza, e in siglia così la partenza invece è super negativa di Valtteri Bottas, come abbiamo visto prima, bravo per lui, fiducioso per Spa, perché è una pista molto veloce, dove secondo lui la sua monoposto può funzionare molto bene con le caratteristiche del tracciato, bene perché soprattutto fanno un quinto e un sesto, cosa vuol dire quinto e sesto? buoni punti e soprattutto un bel gruzzoletto di punti in ottica campionato costruttori, quei famosi punti che sono stati tolti a la Racing Point per l'accusa che è stata fatta dalla Renault, per i freni, non freni, 15 punti li sono stati tolti, quindi è importante poi ritornare a seminare come stavano facendo, quindi da un 7 all'8, buono anche per Carlo Sainz che porta a casa per me un 7 e mezzo, in casa sua arriva dopo le Racing Point, quindi sappiamo che un piazzamento dopo le Racing Point è importante, è vero che le Renault hanno davvero fatto Cilek a questo weekend, però lui è arrivato avanti dal suo compagno di squadra Randon Ores in casa sua, quindi porta a casa un bel voto. Ragazzi abbiamo finito con questa sorta di pagelle piloti, salta a vedere un po' le prestazioni più significative che avevano bisogno di essere un po' analizzate, fatemi sapere, ho diverse domande per voi, fatemi sapere nei commenti, i vostri voti come al solito sapete che possono variare, ha poca importanza e voglio sapere soprattutto cosa ne pensate delle prestazioni, voglio sapere anche la vostra per quanto riguarda il party mode, ovvero le qualifiche del Belgio senza mappatura super strong da parte dei Marcelli, se di tutti i team secondo voi come se sarà un bel pepe in più a quelle qualifiche per smovimentare un po', smovimentare, non movimentare, smovimentare quella situazione appunto di quali, ecco mettiamola così, fatemi sapere secondo voi se Vettel riuscirà un pochettino a riprendersi in questo alone negativo che lo sta diciamo seguendo in questa stagione 2020 e anche se secondo voi Max Verstappen può effettivamente andare a intaccare il regno fatidico di Lewis Hamilton. Io ragazzi vi aspetto qui nei commenti, vi aspetto su Instagram, vi rimetto qui la mia pagina se volete seguirmi, mi trovate sui social, iscrivetevi al canale, lasciate un pollice in su, io vi aspetto al prossimo gran premio del Belgio a Spa. Ciao ragazzi e buona giornata!